Andiamo da mangiare a questi pesciolini. Proviamo con la banana. Sì, sì. Sì, sì. È la verde, non è verde, è la maria con negro. Oh, che figura di vedere. Non ho mai visto. Una volta andavo buceando e ho trovato una e miro. Alla, un po' di ajo. Normalmente sono più grande, non? Sì. Questo è il congori che le dice. Un po' di ajo. Che cosa si. Completa, eh? Ando a buscanti. Un po' di ajo. Grazie a tutti.